Parliamo adesso di cosa fare in pratica, quindi di come si entra in una reazione in coppia, quindi come ci si trova una fidanzata. Vorresti scoprire il sistema per trovare quella giusta, che ti capisca e ti supporti, trasformarla nella tua fidanzata e farle desiderare di rimanere insieme a te per sempre felici e contenti? Se sì, accedi a Per Sempre Insieme, con il 50% di sconto, acquistabile fino all'8 di luglio, dopodiché chiuderà insieme a tutti i videocorsi di approccialla.it. Clicca sul link in descrizione per ottenere l'accesso immediato. Quindi partiamo dalla prima cosa in assoluto. Bisogna farsi una lista di caratteristiche di quella che tu vuoi che sia la tua ragazza ideale. Ora, io adesso dirò alcune cose, è proprio un esercizio pratico che va fatto subito adesso. Quindi per chi vuole soltanto guardarsi il corso, mi dispiace, però devi anche se vuoi effettivamente ottenere anche il risultato di trovarti una fidanzata e poi entrare in una reazione in coppia felice. Questo esercizio va fatto adesso subito la prima volta che lo senti. Alcuni potrebbero averlo già sentito, poi l'ho già detto altre volte, in altre sedi. Quindi se sai già cosa sto per dire, ok, magari l'hai già fatto in passato, però di base può essere, diciamo, che farà fatto al secondo riascolto magari di questo esercizio. Però non lo vale la prima volta, perché poi ci sarà un risvolto che ti farà capire il perché ho fatto subito prima di arrivare a un certo punto in questa lezione. Quindi fai subito questa minchia di lista, prima che ti rivelo, diciamo, non so dire, altri twist mentali, ti faranno capire il perché dovevi farlo subito questo esercizio. Quindi lista di caratteristiche di come deve essere fatta la tua donna ideale, quindi sia in termini fisici e estetici, sia in termini di personalità. Quindi è assolutamente evitare che ci sia anche una lista di caratteristiche in termini di caratteristiche comportamentali, come deve essere fatta la sua personalità, propensioni particolari, interessi, hobby, non lo so. Tutte le varie caratteristiche comportamentali possibili, immaginabili, non so, attività lavorativa che svolge, vuoi che lavori, che non lavori, vuoi, non lo so, una ragazza che ha come obiettivo il crearsi una famiglia, avere dei figli o non ti interessa avere dei figli, vuoi una ragazza che sia, che voglia far sesso sei volte al giorno, oppure vuoi una ragazza che, va bene, c'è un'intensità sessuale normale, o magari anche bassa, ok, dipende, dipende del tuo interesse, ok, non è che posso dirtelo io, adesso ti darò alcuni spunti, in base a quello che effettivamente cerco io, in una ragazza, però, dovresti saperlo te effettivamente, cosa cerchi una ragazza, però devi scriverlo, ok, è importantissimo che lo scrivi, quindi parti dai requisiti base, che ovviamente sono le caratteristiche fisiche e estetiche, perché ovviamente, cioè, se la ragazza non è almeno bella, ogni uomo vuole stare con una ragazza che è bella, ok, gli uomini che si scelgono, ecco, questa è magari interessante da vedere un attimo, giusto come piccola parentesi, e quando io vedo uomini che sono con ragazze brutte, oggettivamente brutte, o che comunque magari sono giusto appena appena accettabili, magari lui si vede anche che magari è un bel ragazzo, diciamo, un bello piazzato magari, anche fisicamente, poi, adesso guarda, non entriamo in questo discorso, perché tanto non è poi quello che effettivamente una ragazza cerca in un uomo, non è la parte fisica, estetica, però si vede uno che potrebbe avere molte più possibilità, se soltanto sviluppasse competenza con le donne, che si accontenta di una che è veramente, c'è il limite dell'accettabile, e tante volte è brutta, quindi, in termini fisici, estetici, quindi cerca di non finire anche tu in quella situazione lì, perché un uomo che diventa capace con le donne ha veramente possibilità illimitate, indipendentemente da quale sia il suo aspetto fisico, quindi però invece l'uomo guarda come prima cosa l'aspetto fisico, e poi le altre caratteristiche comportamentali, un uomo disperato guarda soltanto l'aspetto fisico, a me che è una ragazza sia figa, sì, ok, requisito base, ma poi, cioè, tutto quanto è il resto, se effettivamente voglio installarci un qualcosa di più lungo termine, ma anche se banalmente se la devo rivedere per altre volte, anche se magari è figa, ci faccio sesso una volta, magari ci potrei instaurare un'altra un'amicizia, però è vuota, stupida, non interessante, anche no, non me ne frega niente di continuare a rivedere una ragazza, personalmente, ho già fatto sufficiente sesso in tutta quanta la mia vita, che potrei anche non far sesso mai più per il resto della mia vita, comunque non è che sarei a posto, però diciamo che non me ne frega niente di far sesso una volta in più con una ragazza, anche se è figa, ok, però questo ci arrivi soltanto, questa consapevolezza, questo non bisogno, ci arrivi soltanto se prima fai le esperienze, se prima effettivamente ti dai a fare e sviluppi competenza, che ti porta poi a essere grado di portarti a letto a ragazze quando ti pare, quindi, lista caratteristiche, non può essere soltanto una lista estetica, ti consiglio che dovrebbe, idealmente, dovrebbe essere più lunga la parte delle caratteristiche comportamentali, interessi, obiettivi di vita, progetti, ok, ci sono tantissime opzioni che puoi includere in questa lista, e occhio poi a non cadere nella cosiddetta sindrome dello schizzinoso quando approcci, ok, sindrome che ho visto tante volte nei corsi al vivo, ovvero studenti che magari hanno chiaro, che cercano una relazione, magari hanno anche già chiaro, effettivamente un po' come deve essere questa ragazza, o meglio, in realtà non ce l'hanno chiaro, pensano di avercelo chiaro, ma ancora non hanno sufficiente esperienza per avercelo chiaro, e quindi rimangono in questo limbo, dove ho tutte quante le ragazze che gli indico, quando la tenevo io personalmente nei corsi al vivo, tutte le ragazze che gli indicavo, questa no, questa no, questa no, questa no non è abbastanza bella, questa no, questa no non è abbastanza bella, e poi quando passava quella che effettivamente era bella, come la cercava lui, lo studente in questione, è capitato diverse volte nei corsi al vivo, allora lì ci andava, magari ci andava anche senza che io dovesse indicare la ragazza, e poi andava lì e era paralizzato, perché tutte quante prima non andavano bene, poi quando passa quella che va bene, è ancora un livello troppo alto per il tuo livello attuale, quindi devi fare prima esperienza, senza farlo schizzinoso, che non significa approcciare le cesse, ma potresti anche fare, se vuoi una lista di caratteristiche, di come deve essere fatta una ragazza con cui puoi farci sesso, di come deve essere fatta una tua potenziale tromba amica, e i requisiti saranno di meno, rispetto alle caratteristiche della tua donna ideale, quindi occhio a non chiedere in questa trappola, quando sei ancora che agli inizi, che devi fare esperienza, non puoi avere tutta quanta la lista delle caratteristiche, quando devi soltanto approcciare, non è che se approcci un ragazzo, la probabilità te la devi sposare, quindi occhio a non rimanere in questo limbo, perché altrimenti non fai esperienza, non fai approcci, e quando capita quella lì che tu pensi, che sia la tua donna ideale, rimani paralizzato, perché è troppo bella, è troppo di alto valore, rispetto al tuo livello iniziale, quindi occhio, stiamo parlando di quando poi effettivamente hai sufficiente esperienza, quando poi hai sufficiente esperienza, ti cerchi la tua donna ideale, come ho già detto, non sai neanche le caratteristiche da includere in questa lista, o meglio, sicuramente hai un'idea iniziale, ma poi è una lista che aggiorni con il tempo, in base alle esperienze che fai, e soprattutto in base anche alle esperienze profonde, che fai con le ragazze, quindi si entri in una relazione di coppia con una ragazza, ma riscopri altre cose in più, che non vuoi, che non sapevi finché non sia entrato in una relazione di coppia, quindi ti do qua alcuni spunti di quella che era, prima di filmare questa lezione sono andato a vedere un po' la lista di caratteristiche che mi ero scritto anni fa, e qui adesso te la vado a leggere, ne ho aggiunti altri requisiti, diciamo che sono requisiti attuali, perché fino a un po' di anni fa cercavo X cose, ad oggi ne ho aggiunte alcune in più, poi non te le dirò tutte quante, perché alcune cose si chiamano anche cazzi miei, e io direi che in questo corso mi sbilancerò anche parecchio, quindi dirò anche tante tante cose riguardo alla mia vita personale, alla mia relazione, quindi delle volte però ci saranno alcune cose che sono cazzi miei, però ti garantisco che ti dirò tanto tanto tanto, cose che magari potrai tenermi per me, ma te le dirò lo stesso, quindi requisiti, nella lista che avevo scritto anni fa, c'era come nazionalità, avevo scritto che deve essere di Est Europea, che sia russa o polacca o ucraina o biorussa, quindi vedi anche poi come cambiano gli interessi, con il tempo, quindi avevo scritto questa lista qua, l'ultima volta l'avevo scritta nel 2019, questa lista, e ad oggi dico no, non mi riferisco di gran lunga a ragazze asiatiche, quindi l'altra cosa che avevo scritto nella lista, era economicamente indipendente, e questa qua poi è anche interessante da analizzare, la prima ragazza con cui diciamo che ho avuto una relazione seria, che era nel 2018, e guarda caso, io avevo la mia lista, che avevo scritto ai tempi, e guarda caso, questa ragazza qua aveva tutte quante le caratteristiche che avevo scritto in quella lista, tranne quella dell'essere economicamente indipendente, perché ai tempi neanch'io ero economicamente indipendente, ok? Adesso tra poco arriveremo a quello che è il twist mentale, il risvolto, per cui devi fare questo esercizio prima che arriviamo al risvolto, e cambia tutte quante le carte sul tavolo, ti dirò quando stiamo prima di arrivare al punto, dove devi stoppare la lezione e fare la lista, ok? per adesso puoi ancora andare avanti con la visione di questa lezione, quindi, economicamente indipendente, e poi io in realtà ho come obiettivo alla mia ragazza, di farle lasciare il suo lavoro, quindi non deve essere per forza un obiettivo di tutti, e chi è sicuramente non è neanche una cosa alla porta di tutti, perché se fai il dipendente, l'impiegato, a meno che, non lo so, a meno che non hai un ruolo manageriale, quindi hai uno stipendio che può permettere da due persone di vivere tranquillamente, non lo so, cioè vivere con uno stipendio, magari da 1500 euro al mese, in due, magari anche con dei figli futuri, è un po' stretta come cosa, quindi sicuramente non è neanche alla portata di tutti, per chi fare magari l'imprenditore o il libro professionista, quindi ha magari dei guadagni che sono più alti, rispetto a un dipendente o un impiegato, è quella che non è sempre così, dipende se effettivamente sai far funzionare la tua azienda, però di base è una cosa che magari è sicuramente più alla portata, per chi magari fa l'imprenditore o il libro professionista, ma comunque non deve essere per forza un obiettivo di tutti quanti, ti sto condividendo quello che è un mio obiettivo, non deve essere per forza il tuo, quindi però di base, cioè la base deve essere che sia economicamente indipendente, non può fare una mia ragazza, adesso ha il suo lavoro, quindi non è una disoccupata, ok, quindi questa è una cosa che ho visto in passato, che non c'è ragazze che sono disoccupate, come diceva un formatore una volta, il disoccupato è intento nella sua professione, chi è disoccupato non è che è disoccupato, è che non ha voglia di fare un cazzo, la maggior parte delle volte, e semplicemente è lì ad aspettare, a vegetare con la mentalità da vittima, eccetera, quindi non è pertanto lungo che una questione di occupato o disoccupato, eccetera, è una questione poi della mentalità che c'è dietro una persona che è disoccupata, questa cosa qua avevo capita anni fa, quindi la ragazza che cerca deve essere economicamente indipendente, poi dopo nel momento in cui si instaura una relazione più profonda, posso anche a un certo punto, personalmente come ti ho detto, ho l'obiettivo a un certo punto di farle lasciare il suo lavoro, quindi questo qua è anche un altro requisito per me personale, che ripeto non deve essere per forza per tutti così, quindi adesso qua ti sto dando alcuni esempi miei, però non essere vincolato alle cose che ti dico io, se ti piacciono prendi spunto, però occhio a che non fare in modo che i miei standard diventino i tuoi di standard, ok? Se alcune cose ti piacciono e pensi che per te abbiano senso, benissimo, però occhio, non devi copiare pari pari, ci possono essere cose che io non ho incluso, quindi non limitarti soltanto alle cose che ti dico io, quindi è assolutamente importante per me, che la mia ragazza non lavori in proprio, che nel senso non voglio una ragazza che faccia l'imprenditrice o l'iperprofessionista, no, ok? Che questo per alcuni magari può sembrare strano come cosa, adesso ti spiego, il perché, questo lo diceva anche Donald Trump, che è l'ex presidente degli Stati Uniti, che se non sbaglio sua moglie, che lei faceva l'imprenditrice o qualcosa del genere, e già, giusto piccola predese per chi fa l'imprenditore o l'iperprofessionista di base, sei molto più occupato, hai molti più problemi, hai molti quindi, magari un guadagno più alto, ma hai anche poi d'altro lato problemi più grandi, più responsabilità, più stress, più rotture di cazzo, più un sacco di cose, e il tempo che poi dedichi con sé e con la tua ragazza, non c'hai voglia di stare a pensare, a parlare di lavoro, se non sbaglio era proprio Donald Trump che diceva questa cosa qua, che lui già doveva dirigere tutta quanta l'America, gli Stati Uniti d'America, e in più comunque, già lui prima di essere Presidente degli Stati Uniti, con cui lui era un imprenditore, non so, non so, fosse già miliardario prima che fosse Presidente degli Stati Uniti, e diceva che tutte le volte, l'ho sentito giusto in un'intervista, non che io stia a guardare Donald Trump tutti i giorni, e diceva che quando poi tornava a casa, c'era sua moglie che gli parlava di lavoro, cioè lui diceva, io non c'ho voglia di parlare di lavoro, c'ho voglia di fare un cazzo quando siamo a casa insieme, di goderci il tempo che siamo insieme, di andare a cena, di fare delle attività ricreative, di scopare anche, quello lì va benissimo, però non di parlare di lavoro, ok? Quindi, è stessa cosa, anche io, quando sono io di base, poi ne parleremo più avanti in questo corso, su con che frequenza vedersi, io con la mia ragazza mi vedo tutte le volte il venerdì, e molte volte viene già la mezza giornata il giovedì, per il fatto che durante il resto della settimana lavora, e quindi ci vediamo un giorno e mezzo a settimana, in quel giorno e mezzo a settimana, io non ce lo voglio, non guardo niente, non lavoro, se ci sono cose urgenti, guardo e rispondo i messaggi, io faccio delle cose se serve, io in quel giorno e mezzo lì, sono off, spento tutto, non si lavora, non voglio pensare, non voglio che nessuno mi parli di lavoro, e poi se sono cose urgenti, se sono cose al volo, lo posso anche fare, però, quindi per questo motivo, e di base, come ho detto, se uno fa l'imprenditore, il libero professionista, già ci sono abbastanza casini, eccetera, per conto tuo, se in più ci aggiungiamo anche i suoi di casini, eccetera, di problemi, perché è inevitabile se fai l'imprenditore, o il libero professionista, è quello a cui va incontro, quindi da un lato guadagna più alto, ma dall'altro lato ci sono poi anche più problemi, responsabilità, eccetera, quindi, assolutamente no che lavori improprio, e, ripeto, potrebbe essere, è semplicemente una mia preferenza, preferenza anche di Donald Trump, che sicuramente è una preferenza di, di anche altri, e non deve essere per forza una tua preferenza, poi se fai il dipendente, l'impiegato, non ti stare neanche a porre questo problema, e poi, parte estetica, diciamo, mi sono dato una scala da 0 a 10, parte estetica, dal 7 al 10, quindi tutti quanti abbiamo la nostra scala estetica, di quanto riputiamo una ragazza bella, da 1 a 10, e quindi, quello che mi ero detto io, ok, non mi interessa che sia per forza un 10 esteticamente, non voglio che sia un 6, quindi che 6 vuol dire, semplicemente accettabile, un po' come i voti a scuola, il 5 vuol dire insufficiente, il 6 vuol dire accettabile, quindi comunque una ragazza carina, accettabile, però no, 6 no, 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 quindi almeno dal 7 in su, quindi dal 7 al 10, quindi non mi interessa sia una strafiga, allucinante, modella, eccetera, però deve essere figa, ok, quindi assolutamente non brutta, assolutamente non carina, accettabile, bella, diciamo dal 7 al 10, poi non c'è una scala oggettiva, ognuno ha la sua scala di bellezza, però ricordate che come dicevano i casting di Victoria's Secret, che appunto è la bellezza soggettiva, ma i casting di Victoria's Secret non sono d'accordo, però ti ripeto, magari tu sei attratto, come ho tirato in elezione presente, in passato ero attratto molto di più dal volto estero europeo, ad oggi non è più così, non che ad oggi le ragazze estero europee mi facciano schifo, però insomma sono più attratto dagli alimenti del viso asiatici, e anche poi in generale da comportamenti in generale di ragazze asiatiche, che puoi ricordarsi che comunque non vuol dire niente asiatico, ma ci sono un sacco di paesi in Asia, quindi poi altro requisito, progetti futuri, quindi comunque abbia delle idee su che cosa vuole fare più avanti, non per forza a livello lavorativo, quindi anche su in generale cose, progetti, magari viaggi, posti che vuole visitare, cose che vuole fare, viaggiatrice, quindi comunque diciamo che abbia la mentalità sul fatto di voler vedere anche altri paesi, che non abbia la mentalità da paesino, che stiamo, vi passa tutta la vita in un solo posto, poi mente aperta al miglioramento, ne parleremo poi anche più avanti, o forse già in questa lezione, non lo so, adesso lo vedremo, quindi mentalità aperta al miglioramento, quindi se sei all'interno di questo corso di base, se sei una persona che si vuole migliorare, che in questo caso con le donne, probabilmente magari anche in altri ambiti di vita, magari ti stai migliorando anche su altri ambiti di vita, se tu sei in costante miglioramento, io sono in costante miglioramento, da quando ho scoperto il mondo della crescita personale e della seduzione nel 2014, sono in costante miglioramento, la persona che ero nel 2014 è morta, non esiste più, ok? perché se io ogni giorno mi miglioro dell'1%, che da un giorno all'altro non si vede niente, però se lo guardi su un anno è più 365%, se lo vedi dopo 2, 3, 4, 5 anni, cioè è un miglioramento che è esponenziale, quindi e se dopo un po' tu costantemente ti migliori e la persona con cui sei rimane sempre lì dov'è, cioè dopo un po' siete troppo lontani, siete troppo lontani, non vi comprendete più, ok? Quindi mentalità aperta al miglioramento, che non deve essere per forza il fatto che lei è una drogata, di crescita personale, che guarda i video, motivazionale, queste robe qui, no, non mi riferisco a quello, però anche molto veramente aperta al, diciamo, al farsi influenzare la tele, ne parleremo credo forse in questa lezione, io tantissime volte, quando vai di base, come dico nell'introduzione di ogni videocorso, l'ascolto passivo, andare a riprogrammare la mente inconscia, io tantissime volte, quando sono con la mia ragazza, e tante volte magari, mentre ci stiamo preparando per uscire, magari, non lo so, anziché mettere la musica, poi delle volte metto anche la musica, però delle volte magari metto un video YouTube sottofondo, di magari dei formatori che seguo, che sia in italiano, che sia in inglese, la mia ragazza non parla italiano, un pochino lo sta imparando, perché appunto non è italiana, però delle volte magari metto video di sottofondo in italiano, e magari delle volte invece metto video in inglese, che siano corsi, che siano video YouTube, e la mia ragazza per esempio ha accesso, io ho dato accesso, poi non so, vedete, io non so quante cose dovrei dire in questo corso, forse anche un po' troppo dire tutte queste cose, e la mia ragazza gli do accesso ai corsi che compro io, quindi indipendentemente da qualsiasi settore, però di base il settore principale su quale mi formo, è appunto il settore business, imprenditoria, queste cose qua, poi magari anche su altre cose, però principalmente ormai da un po' di anni, cioè il mio interesse principale è formarmi sull'ambito business, imprenditoria, e quindi do accesso alla mia ragazza ai corsi che prendo, magari sono corsi in italiano, magari sono corsi in inglese, anche le volte se li sente, anche per conto suo, ok, delle volte mi chiede, cazzo ho perso la password, mi ritieni la password così, così dal nulla, quindi questo mi fa vedere che comunque è attiva sul pezzo, io glielo ho dato così, così capisce anche un attimo meglio quello che faccio io, la mia ragazza ha accesso anche ai miei videocorsi, che per chi non lo sa insegno anche in lingua inglese dal 2022, e ho ricreato il corso dall'approccio alla camera letto in inglese, c'è un altro canale YouTube in inglese, e per il momento lì ho soltanto un videocorso che è dall'approccio alla camera letto in versione inglese, e lei c'ha l'accesso, se l'hai guardato, anche per capire meglio me, per conoscermi meglio i video in inglese, dove insegno inglese se li guarda, anche per conoscere meglio me, perché è un attimo come penso, ma adesso non si riguarda più tanto, però agli inizi si riguardava di più, per conoscermi meglio un attimo, oppure molto banalmente, alcune volte ti potresti trovare a spiegare alla tua ragazza, alcune dinamiche di una relazione di coppia di successo, le cose che impari in questo corso, e poi in realtà, ne parliamo poi più avanti in questo corso, però potresti doverti trovare anche a spiegare tante di queste cose, magari anche addirittura a farle vedere, questo corso, ok, poi ne parliamo più avanti in questo videocorso, e non so in quale lezione, però ne parliamo probabilmente più avanti, e se la tua ragazza ha la mentalità chiusa, riguardo al migliorarsi in una relazione, e alla credenza, che ne so, che ha la relazione, a venire da sé, queste cagate qui, è chiaro che poi ci saranno grossi problemi, durante la relazione, perché tu ti migliori, anche in questo caso, se la ragazza ha la mentalità chiusa, riguardo per esempio al miglioramento, nella relazione in coppia, tu porterai un sacco di valore alla relazione, perché hai visto questo corso, saprai come portare un sacco di valore alla relazione, ma da parte sua magari non c'è il corrispettivo, quindi la relazione poi è sbilanciata, tu porti un sacco di valore, però non ricevi poi niente in cambio, e alla ti chiedi perché cazzo devo continuare a portare così tanto valore alla relazione, se dall'altra parte non c'è nulla in cambio, comunque c'è molto poco valore, non è più un vincere per te, che la relazione deve essere un win-win, quindi deve essere un vincere per entrambi, se è soltanto uno che contribuisce un sacco alla relazione in termini di valore, ci sarà una lezione più avanti riguardo al discorso del portare valore alla relazione, parleremo poi anche in quella lezione di che valore deve portare la ragazza nella relazione, comunque ne parlerò più avanti, però siamo ancora all'inizio di questa lezione, quindi come ti dicevo appunto uno dei requisiti che io personalmente cerco, questo diciamo che è un requisito universale, quindi tutti quanti seguono in relazione felice, la tua ragazza deve assolutamente avere la mentalità aperta riguardo al miglioramento, poi altro requisito che io cerco è che sia estroversa come ragazza, ragazze troppo timide, mosce, mosce, non so in che accento si dica, molli, spente, no, no, non è, soprattutto quando poi tu ti sblocchi, magari inizialmente potresti anche essere attratto da ragazze molto timide, introverse eccetera, però quando ti sblocchi ti togli le paure, diventi capace di approcciare ragazze, ragazze sono troppo timide, pacate, non che non mi riferisco a una ragazza che è una festaiola eccetera, però una ragazza estroversa e sia un minimo calorosa. Poi, altro requisito per me, ricordo per me, è che sia molto curata esteticamente e fisicamente, questo è un dato di base, tutti quanti dovrebbero cercarlo come requisito, perché appunto l'uomo come prima cosa guarda la parte fisica estetica, cioè una ragazza, sono fatto un culo enorme per sviluppare competenza con le donne, posso scegliere di base più o meno qualsiasi ragazza io voglia, deve essere una ragazza che sia figa, che si tenga, diciamo che ci tenga appunto a come appare, sia la sua forma fisica, sia come si veste, sia la cura dei dettagli. Poi, un altro requisito che avevo scritto anni fa, dico proprio come l'avevo scritto anni fa, avevo scritto molto troia sessualmente, quindi che si intende semplicemente il fatto che sia appagante farci sesso con lei, che non sia una mummia, una statua a letto, che sappia fare un pompino, per esempio, che è molto importante, magari posso anche passarci sopra, comunque poi sono molto più importanti altre caratteristiche comportamentali durante la relazione, se comunque è figa, e ci sono tutte quante altre caratteristiche comportamentali, sicuramente mi dispiacerebbe se non facesse pompini, però ci si potrebbe anche passare sopra, però fortunatamente la mia ragazza non è così, ovvero sul fatto che comunque non ha problemi mentali riguardo alla cosa al sesso orale, però appunto sul fatto che deve essere appagante farci sesso con lei, ci sono ragazze che sono molto più bloccate con il sesso, molto più rompicoglioni, più chiuse, più statiche, più passive, no, poi non alcolizzata, con queste qua arriviamo alle cose che avevo imparato da una relazione che ho avuto nel 2019, quindi non alcolizzata, che non significa che non beve alcol mai, però non si può che ogni sera si deve fare lo sciottino, il bicchiere di vino, eccetera, e che magari qua si è ubriaca, eccetera, anche molte volte, è proprio uno, chi si ubriaca sempre, chi ha bisogno sempre di bere alcol, è proprio per scappare dai problemi, scappare da emozioni negative, quindi ancora poi è un indicatore, è un indicatore di quanto una persona è emozionalmente indipendente, poi non social dipendente, quindi questa era una cosa che avevo imparato da quella relazione lì, quindi sul fatto che c'è una possibilità, debba stare sempre a postare sui social, poi arriviamo ad altre caratteristiche, queste le ho aggiunte adesso, appena di filmare questa lezione, perché appunto la lista l'avevo scritta anni fa, l'avevo scritta inizialmente nel 2018, se non sbaglio, poi l'avevo aggiornata nel 2019, poi dopo non l'ho mai più aggiornata, e quindi l'ho fatto un piccolo aggiornamento, adesso appena di filmare questa lezione, era direttore assolutivo sul mio vecchissimo telefono, su due telefoni fa, e sono iniziato a recuperare questa lista qui, quindi ci ho aggiunto adesso giusto tre altre caratteristiche, ovvero che sia di supporto, quindi questa è una cosa importantissima in una relazione, soprattutto per chi magari fa anche l'imprenditore, il libro professionista, che ci sono magari, non magari, ci sono sempre problemi, casini, eccetera, quindi sempre c'è la ricompensa da un lato, sul lato economico, però poi ci sono anche dall'altro lato, un sacco di cose a gestire, problemi, casini, eccetera, e la tua ragazza deve essere di supporto, ok? Soprattutto magari quando ci sono periodi negativi, situazioni negativi, momenti stressanti, eccetera, se ci si mette anche lei che ti rompe i coglioni, che non capisce quello che fai, può anche non capire nel dettaglio quello che fai, va bene, cioè qua si sta trasformando in un corso per imprenditori, però per chi fa il dipendente impiegato, mi scuserete un attimo, però non è per forza necessario che la tua ragazza capisca nel dettaglio quello che fai, in termini, se fai l'imprenditore o il libro professionista, perché tante volte è proprio difficile da spiegare, ci sono magari tante cose che fai, tante sfaccettature, tanti dettagli, cioè è anche molto difficile da spiegare, poi magari con il tempo lo capisci un po' più nel dettaglio, però l'importante è che sia di supporto, che non ti rompe coglioni, che ti stia a fianco anche quando ci sono magari momenti difficili, eccetera, quindi supporto, non so come altro spiegarlo, quindi che sia di supporto, e sicuramente che sia di supporto e non ti remi contro, magari su quello che devi fare, lì poi probabilmente ne parleremo più avanti in questo corso, magari se lavori tanto, cioè farle anche capire che lavori tanto per il bene di entrambi, quindi che magari di volte hai poco tempo per lei, che comunque lo vedremo più avanti in questo corso, cioè devi avere anche poi un certo minimo di tempo per lei, perché non è che puoi sempre stare tutto il tempo a lavorare, perché sennò qualcun altro dedicherà, il tempo che non dedichi tu alla tua ragazza lo dedicherà a qualcun altro, ok? Quindi ci deve essere comunque un minimo di tempo che dedichi alla tua ragazza, però se c'è tanto da lavorare, eccetera, farle anche capire che è per il bene di entrambi, ok? Per lavorare, per magari guadagnare di più, per fare una certa vacanza, per, in questo caso magari molte volte, le ricordo che magari se lavoro tanto, se ho tante cose da fare, e le ricordo anche che più effettivamente io lavoro, più faccio cose, più si avvicina il momento in cui posso permettermi di farle lasciare il suo lavoro, ok? Quindi puoi anche ricordarle queste cose qui, però magari vi parleremo più avanti in questo corso, e che, altro requisito, che non rompa i coglioni, ok? Barra che sia femminile, ci sono ragazze che diciamo sono più rabbiose, incazzose per, adesso non so per natura, cioè una persona è più, diciamo, rilassata, o incazzosa, in base a quanto è soddisfatta della sua vita, quindi le persone sono sempre arrabbiate, rancorose, perché di base hanno una vita che fa schifo, quindi, però ci sono anche ragazze che sono, non so, i cosiddetti maschiacci, cioè, no, no, personalmente no, io per esempio guardo anche molto la voce, in una ragazza, che, non so come dire, proprio con, con che tonalità parla, con, non so, nel corso dei miei anni di esperienza, ho visto che ragazze anche proprio di alcuni paesi, hanno una voce più maschile, e in certi altri paesi hanno una voce più femminile, per esempio, le ragazze italiane, io non lo so, le ritengo, ragazze che, in media, poi ovviamente non tutte, però molte, io non so, le ritengo che abbiano una voce un po' più maschile, rispetto a ragazze di altri paesi, e addirittura mi ricordo una volta una ragazza, con cui ho fatto un appuntento, che questa ragazza qua, era metà asiatica e metà americana, però era nata e cresciuta a Milano, quindi di base, parlava italiano, con l'accento italiano, e, però parlava anche, anche inglese, essendo comunque metà asiatica e metà americana, e mi ricordo che, quando l'avevo conosciuta, non so perché parlavamo in inglese, e invece aveva una voce super femminile, incredibile, super femminile, poi a un certo punto, si comunque parlava italiano, eravamo in Italia, eravamo a Milano, viveva a Milano, tutta quanta la vita, e a un certo punto abbiamo iniziato a parlare italiano, e poi non glielo ho detto, però ci ho detto, cazzo, torniamo a parlare in inglese, che c'è una voce che fa schifo, e non so che cos'è, però, non so, alcune ragazze, però ripeto, per referenza personale, per esempio, ho notato, che ragazze, per esempio, giapponesi, non so, hanno una voce che è iper femminile, ok, dipende, però dipende, non è che per forza, però diciamo, in media, ho notato queste cose qua, qui di base, che non rompe coglioni, che sia femminile, quindi che non rompe coglioni, diciamo, si collega al discorso del fatto che ti supporti, che non ti stia a scassare le palle, per ogni cosa, che magari non le rispondi per qualche ora, che magari stai lavorando, non lo so, su queste piccole cose, che non voglio litigare per ogni minima cosa, che quindi, poi lo vedremo anche più avanti in questo corso, che più valore porti alla relazione, più la ragazza non ha l'attitudine, rompe i coglioni, quindi dipende anche in realtà da te, da quanto porti valore alla relazione, più porti valore, più lei ha l'attitudine, quando c'è un problema, a risolverlo, anziché scassarti i coglioni, e poi un ultimo requisito, che ho aggiunto sempre adesso, prima di filmare questa lezione, che in realtà questa non è una cosa, che io ricerco attivamente, però, ho visto che effettivamente, avendocela io come caratteristica, guarda caso, poi trovi ragazze, e trovo ragazze, che effettivamente hanno anche loro questa caratteristica, ovvero l'attenzione ai dettagli, sempre ne parliamo più avanti, in questo corso, quindi di base segnarsi le cose, che magari ti dice la ragazza, segnarsi cose su cui ti manifesta interesse, segnarsi le date, le ricorrenze, eccetera, però soprattutto segnarsi cose, sulle quali lei manifesta interesse, che poi puoi ritirare fuori in un altro momento, e magari ha manifestato interesse per andare a un certo posto, e una settimana dopo, due settimane dopo, un mese dopo, tre mesi dopo, andate in quel posto, ti ha manifestato il fatto che le serviva una certa cosa, che le deve comprare una certa cosa, e che magari, non so, costa 15 euro, e magari, non so, una settimana dopo, gliele comprare da te, ok, quindi queste piccole cose qui, e effettivamente io, essendo in questo modo poi, ci saranno tante cose, tanti esempi, in questo corso più avanti, e effettivamente ho notato che anche la mia ragazza è così, che ha questa attenzione ai dettagli, si ricorda le cose che avevo detto, le cose che mi interessavano, le cose che magari cercavo, e magari, x settimane dopo, x mesi dopo, se ne salta fuori con queste cose qua, però non trovi ragazze in questo modo, se non sei in primis tu, in questo modo, ora, siamo arrivati al momento del, diciamo, del twist mentale, diciamo, del ribaltare le carte sul tavolo, quindi, ferma il video, scrivi la lista delle caratteristiche, e ci rivediamo qui, tra, quando hai finito di fare questa lista, se ti servono ore, benissimo, quanto bene inizi a scriverla, poi l'aggiornerai, anche con il tempo, però, quanto bene inizi a scriverla, ferma questo video, e fatti la lista, quindi, adesso vado avanti, quindi, se sei qui, assumo che, che tu abbia fatto la lista, se non l'hai fatta male, ok, ferma questo cazzo di video, e, perché, ripeto, adesso io ti dirò una cosa, che ti cambierà poi la percezione, quando vai a fare la lista, e, che ti rovina, tra virgolette, l'esercizio, se non l'hai già fatto, quindi, se vuoi una ragazza, nel, nel modo in cui, l'hai descritta nella lista, devi tu, in primis, rispecchiare quelle caratteristiche, ok, quindi questo qua, il twist mentale, e sapendo questa informazione qua, se adesso vai a scrivere, la lista, scrivere la lista, in realtà, con una mentalità diversa, dove, quando vai a scrivere, un certo requisito, della tua ragazza ideale, comunque ti chiederai anche, però non so, magari io non voglio effettivamente, fare questa cosa qui, e perché sai che magari, non sei in quel modo lì, che non sei disposto a lavorarci su, magari mettiamo che cerchi, una ragazza, non lo so, vediamo un attimo, i requisiti, non lo so, magari, mettiamo sul discorso, del fatto che sia, molto, che sia molto estroversa, mettiamo, anzi facciamo così, mettiamo sul discorso, che sia una ragazza curata, esteticamente, e fisicamente, sia impeccabile, che si tiene sempre in forma, curata, impeccabile, fisicamente, esteticamente, e anche con il, come si veste, eccetera, anche nei dettagli, eccetera, e tu magari, sai che sei uno, molto trasandato, che magari, non si tiene, particolarmente curato, in ordine, che non, non fa mia attività fisica, magari, c'è un po', un po' di panza, e quindi, non scriverai, questo requisito, nella lista, perché sai, che non sei disposto, a lavorarci, per diventare anche tu, in quel modo, ok, quindi per quello, ti ho fatto prima, l'esercizio, quindi spero, che tu abbia fatto, la lista, prima di arrivare, a questo punto, del video, e puoi, puoi farla lo stesso, però, era meglio comunque, farla prima, quindi, bisogna rispecchiare, le caratteristiche, che hai scritto, altri perché appunto, si tende ad attrarre, il tipo di persona, che si è, anche poi la cosa bella, dei approcci di giorno, è che tu, nel momento in cui sei un certo tipo di persona, le ragazze ti risponderanno meglio, quando approcci le ragazze dal vivo, soprattutto con gli approcci di giorno, sono le ragazze, che sono esattamente come te, o comunque sono molto, diciamo simili, al come sei te, in termini, soprattutto, di personalità, ok, quindi non troverai, ragazze ambiziose, se, quando tu magari approcci una ragazza, che è ambiziosa, e tu magari sei, non so, molto, non so, appiattito, procrastinatore, eccetera, e ti capita approcciare una ragazza così, di giorno per la strada, avete due energie, sono totalmente diverse, e quindi, verrai rifiutato, quindi, per quello poi, con gli approcci di giorno, quando tu effettivamente, ti fai questa lista di caratteristiche, guarda caso, poi trovi ragazze, che sono, molto in linea, per con le cerchi, tantissime testimonianze, di che hai fatto i corsi al vivo, viene dato proprio, proprio come esercizio, tante volte, questo, prima di arrivare a un corso al vivo, e tantissime volte, gli studenti, nei corsi al vivo, si stupiscono, che, guarda caso, le ragazze, con cui hanno fatto gli appuntamenti, durante il corso al vivo, sono esattamente in linea, a come le cercavano, e non è che è magia, è che, tu hai fatto, hai tutto fatto mente locale, sul tipo di ragazze cercavi, hai tentato, di rispecchiare, più possibile, quelle caratteristiche, e guarda caso, poi le ragazze, ti hanno risposto meglio, quando approccivo al vivo, erano ragazze, molto simili, a come sei te, e quindi, poi la gente si sorprende, ah, quella ragazza è, resa attenti, che non cercavo io, non è magia, si tratta di fare questo tipo di lavoro, quindi, rispecchia più possibile, le caratteristiche, chiaramente, non è che puoi rispecchiarle tutte, cioè, se cerchi una ragazza, che sia bionda, tu non sei biondo, va bene, non è che devi tingerti, i capelli, ok, quindi, usiamo anche il buonsenso, se cerchi una ragazza, con gli occhi azzurri, non è che devi avere gli occhi azzurri, anche te, ok, quindi, ho sto avuto su queste cose fisiche, di base, non sono molto modificabili, anche se con qualcune, sì, sono modificabili, ci puoi lavorare, ho fatto per esempio, della forma fisica, vuoi una ragazza che sia impeccabile, non è che devi essere anche tu per forza, impeccabile, con gli addomini scolpiti, quello no, quello assolutamente no, non serve, però, un minimo in forma, se c'hai una panza, se sei iper in sovrappeso, nì, non è esattamente la cosa migliore, se vuoi una ragazza che sia super figa, e super in forma, quindi, però per le altre caratteristiche, quindi per esempio, poi anche sulla nazionalità, ovviamente, se cerchi una ragazza che devi in un altro paese, non devi essere per forza anche tu di quel paese, quindi usiamo il buon senso, però appunto, come ti dicevo prima, quella ragazza con cui ero nel 2018, che comunque non è durata molto, e guarda caso, avvia tutte quante le caratteristiche che avevo scritto sulla lista, tranne quella dell'essere economicamente indipendente, e perché? Perché io non ero economicamente indipendente, pensa a te, le casualità della vita, quindi, è una ragazza di base che, non troverai ragazze che sono aperte al miglioramento personale, con mentalità aperta, se non sei anche tu orientato sempre al miglioramento, che non significa se hai dei drogati di miglioramento, eccetera, costantemente di parlarle, ho fatto il corso, sono motivato, eccetera, quello no, quello lì appare semplicemente come, non so, come un drogato di crescita personale, quello non è, non è la percezione che vuoi, che una ragazza abbia di te, però, non troverai una ragazza di quel tipo, che sia aperta al miglioramento, se non sei in primis, aperto al miglioramento, e costantemente in evoluzione, non troverai una ragazza estroversa, se anche tu, non sei un minimo estroverso, e ricordarsi che, questo l'ho spiegato in altri corsi, però, non è che sei introverso, quindi per chi si ritiene introverso, semplicemente ti sei abituato a essere introverso, quindi nasciamo tutti quanti completi, con tutti quanti i lati della personalità, quindi sia introverso che estroverso, semplicemente ci si abitua a utilizzare di più, una parte o l'altra della personalità, perché se io ti dicessi, domani devi essere super, super iper estroverso, arrogante, anche proprio stronzo con la gente, vai al bar e dici, oh dammi un cappuccino stronzo, come così, e sai che non ci sono conseguenze, e devi essere in questo modo per 24 ore di fila, e poi dopo puoi tornare a essere tranquillamente introverso, come pensi di essere, però in più hai 100 milioni di euro sul conto in banca, lo faresti? Lo considereresti? La risposta è sì, perché sai che dentro di te, c'è anche quell'altro lato, semplicemente non l'hai mai allenato, ok? Quindi lo semplicemente lo alleni, nel momento in cui inizi a approcciare un po' di ragazze, ti togli le paure, vedrai che sarai automaticamente molto più socievole, ed estroverso, quindi, e quantomeno lo sarai a comando, ok? Sto tranquillamente per cazzi miei, cioè di base sono introverso, non è che sono di base introverso, è che semplicemente, sono sia introverso che estroverso, ho sviluppato anche l'altro lato, e se c'è da parlare a ruota libera per 500 ore, lo posso fare, se devo fare una sessione dove sto a approcciare per 8 ore, e approccio un sacco di ragazze, cioè da sono tranquillamente in grado di farlo, e sono anche in grado di starmi tre mesi in casa, lavorare senza mai parlare con un essere umano, e di godermi il tempo che passo da solo, ok? Quindi si tratta di allenare entrambi i lati della personalità, quindi chiaramente questo lavoro di rispecchiare le caratteristiche, non è una cosa che fai in un giorno, ok? È una cosa che devi saperla, e deve essere in direzione di rispecchiare, più possibile queste caratteristiche, durante appunto l'arco della tua vita, quindi poi passo successivo è fare azione, ok? Scioccante per alcuni, bisogna fare azione, la ragazza giusta non ti verrà a bussare alla porta di casa, ok? Devi uscire, e approccia ragazze, e ti dico già subito tranquillamente, le ragazze migliori le trovi quando approcci al vivo, non online, in media, poi, magari trovi la ragazza della donna della tua vita da Tinder, possibile, ma meno probabile, ok? Perché le ragazze di maggior qualità, non hanno necessità di utilizzare app di incontri, ok? Quindi le ragazze di maggior qualità le trovi dagli approcci di giorno, poi se tu magari sei un discotecaro, uno molto festaiolo, è possibile che la tua donna ideale magari la troverai da approcci in discoteca, però ci sono le possibilità maggiori di trovare una donna di qualità, le ragazze di più qualità sono tramite gli approcci di giorno, quindi bisogna fare azione, ok? Non ti arriverà per caso, devi uscire a approcciare ragazze, diventare capace con le ragazze, pensa anche dove potrebbe essere la ragazza che punti, ok? Però questo, cioè, fai questo ragionamento nel momento in cui hai sviluppato prima un po' di esperienza, ok? Non iniziare subito a ragionare in quest'ottica, quindi però, per esempio, c'è uno studente, non so se comprava questo corso, perché non so quanto ne abbia bisogno, e... che praticamente aveva fatto un corso di avvio con me nel 2021, se non sbaglio, e... lui aveva detto proprio come obiettivo, poi non chissà se comprava questo corso, ha detto proprio come obiettivo, Luca, io il 2021, un studente che aveva più di... più di 47 anni, se non sbaglio, che diceva, io questo 2021 lo voglio dedicare a trovare la donna della mia vita, aveva già comunque discreta esperienza con le ragazze, però c'erano diverse difficoltà su varie cose, e ha detto che il 2021 io voglio dedicare quest'anno a trovare la donna della mia vita, e apparentemente ce l'ha fatta, ha trovato la donna, poi non so se si è andato insieme per tutta quanta la vita, però da quello che so, va piuttosto bene, e lui mi aveva detto che effettivamente, essendo entrato in contatto con queste informazioni qua, che avevo messo anche in maniera più primordiale in altri corsi, poi ve lo avevo spiegato anche nel corso al vivo, e lui ha detto che la donna che voglio io, non ha senso approcciare, non ha senso approcciare in certe fasce orarie, perché è impossibile che la trovo, adesso poi non mi ricordo che ragionamenti avesse fatto, però ha detto che lui usciva a approcciare a Milano, per approcci di giorno, nella zona di Piazza Duomo, perché voleva ragazze che magari lavorassero lì in quella zona, che magari facessero lavori in quella zona lì, e usciva a approcciare in pausa pranzo, o poi dopo l'orario lavorativo, perché interessava ragazze che appunto lavoravano lì in quella zona, e non aveva senso per lui approcciare in fasce di orario intermedia, perché la ragazza ideale che cercava, nella fascia di orario intermedia di pomeriggio, è a lavoro, e quindi non l'avrebbe mai trovata, e ha detto che usciva ad approcciare di sera, lì sarebbe stato più complicato, perché questa ragazza qua con cui adesso è, quando uscia di sera era sempre in gruppo con amiche, poi non che non si possa fare, si può anche approcciare le ragazze quando sono in gruppo, però lui ha detto che esco ad approcciare in queste fasce orarie, in questa zona della città, perché è più probabile che trovo questa ragazza qui, che cerco io, in questa zona, in questo specifico orario, quindi provo anche a pensare, dove potresti trovare questo tipo di ragazze, anche per esempio se cerchi un certo tipo di nazionalità di ragazza, perché magari hai fatto esperienze, hai trovato che ha magari le più compatibilità, che ti piacciono di più ragazze di un certo paese, se non c'è flusso di quella nazionalità, nella città dove approcci te, e magari sono soltanto ragazze, sono rare di quella nazionalità lì, valuta, valuta magari, o ti trasferisci, o vai ad approcciare in quel paese specifico, però poi cosa fate? Fate reazione a distanza? Reazione a distanza non funziona, lo vedremo poi più avanti in questo corso, quindi valuta anche dove potrebbe essere la tua ragazza ideale, però ripeto, non fare questi ragionamenti troppo, diciamo, dove vai a ridurre la zona e gli orari, se non hai fatto prima un po' di esperienza, quindi poi il passo successivo è arrivare al sesso con la ragazza in questione, anche qua cose scioccanti per alcuni, poi chi mi segue da tanto dovrebbe già saperle queste cose, quindi non sei in una relazione finché non hai fatto sesso con la ragazza, lo stato della relazione non è dettato da quello che vi dite, non conta un cazzo di niente quello che vi dite, non conta un cazzo che vi dite, ah siamo fidanzati, che tu le hai chiesto se siete fidanzati, e lei ti ha detto di sì, e te l'ha chiesto lei, tu le hai detto di sì, non conta un cazzo di niente, come direbbe un altro formatore, non conta una beata fava di niente, quindi non conta, lo stato della relazione è dettato dalle azioni, non dalle parole, voi potete anche dirvi che siete in una relazione, ma se non avete mai fatto sesso, non siete in una relazione, siete ancora in una frequentazione, se ci arriva il sesso, poi da lì può partire la relazione, non è che parte dopo il sesso, la relazione parte, non c'è un momento specifico in cui parte, devi prenderci letto, e poi continuare a frequentare la ragazza in questione, anche in situazioni di giorno, fare attività, diciamo, da coppia, quello che è un'altra roba amicizia, è semplicemente il vedersi per far sesso, direttamente a casa tua o a casa di lei, oppure al massimo drink e sesso, questa è un'altra roba amicizia, qui in una relazione di coppia, voglio iniziare a fare anche altre attività, quindi andare a cena insieme, fare altre attività, attività di giorno, andare al bullying, andare in vacanza, adesso poi ne parleremo di quale attività fare, non andare subito in vacanza con una ragazza che ha appena conosciuto, attività di giorno, e poi dopo un po' siete in una relazione, ma non perché me lo siete detti, poi a un certo punto potete anche vedere la conversazione del cosa siamo, ne parleremo adesso, però un attimo, ma lo stato della relazione è dettato dalle azioni, tantissime volte mi è capitato di sentire, anche parlo di vecchi amici, adesso cerco di non fare troppi esempi, perché me ne vengono in mente tantissimi, di questi anni, però facendo giusto gli esempi più semplici, dei miei vecchi amici, quando ancora non insegnavo approcciare ragazze, quando ancora non ci sapevo fare neanch'io, con una ragazza che praticamente eravamo il gruppo di 5-6 maschi sfigati, che uscivano sempre fra di noi, mai visto una ragazza in tutta quanta la nostra vita, ad un certo punto per caso uno di loro si era fidanzato, ma non è che si era fidanzato, perché non ci ha mai fatto sesso con la ragazza in questione, e puntualmente un mese dopo, questa ragazza qua ha lasciato il ragazzo in questione, non è che l'ha lasciato, non sono mai stati insieme, si vediamo tipo 5 volte a settimana, lei è stata a casa di lui un sacco di volte, cioè dopo un po' la ragazza si rompe i coglioni, perché vuole arrivare al dunque, e questa era anche una situazione da circolo sociale, in una situazione da circolo sociale, hai molto più tempo che puoi perdere, per dire che la ragazza si stufi, in situazioni di approccio freddo, di giorno, discoteca, online, se ci arrivi al sesso, se fai uno o due appuntamenti, e avevi l'occasione di arrivare al sesso, e te la sei persa, fine, non la vedi più, la ragazza quindi, hai più margini di errore in situazioni da circolo sociale, ma non è esso questo l'argomento, e fra l'altro a un vecchio amico, gli è successa la stessa cosa, subito dopo, qualche mese dopo, con un'altra ragazza, e poi si chiedeva, ma come è sparita così, perché non te la sei scopata, stessa cosa anche con un altro dei miei vecchi amici, e quindi non siete in una relazione, poi magari si stupiscono anche con uno dei miei vecchi amici, ma poi a un certo punto, era subentrato un altro ragazzo, perché lei aveva detto, eh guarda c'è un altro, e poi gli uomini che non hanno idea di come funzionano le dinamiche come una donna, se la vivono come vittima, ah bastarda, perché non mi ha detto c'era un altro, mi hai tradito, non ti ha tradito, non siete mai stati in una relazione, non è che ti ha tradito, quindi finché non accade il sesso, non c'è un vero legame emozionale fra voi due, potete anche dirvi che siete in una relazione, ma non lo siete, perché poi il primo deficiente che passa, che è in grado di approcciarla correttamente, e che è in grado di portarsela a letto, te la frega da sotto il naso, ok? Perché non c'era effettivamente un vero attaccamento emozionale a te, finché il sesso non accade, quindi, arrivarci al sesso, ecco qua, spendiamo un attimo qualche parola in più, come avevo detto nella lezione precedente, io consiglio di scegliersi una ragazza che sia difficile, ora difficile, non è che deve essere, diciamo, iper difficile, però, questo va un po' in contraddizione a quello che avevo detto, a quello che avevo detto tante volte, però in realtà non ho mai fatto questo discorso, per quanto riguarda la relazione coppia, io dico sempre che la maggior parte della ragazza ci può arrivare al sesso al primo appuntamento, al massimo al secondo appuntamento, ed è vero, continuo a dirlo, e la ragazza con cui sono attualmente è stata l'unica eccezione, ci sono avuti sette appuntamenti per farci sesso, alcuni di voi avranno sicuramente anche una piccola parte, avrà il bonus sui sette appuntamenti, che era un bonus che avevo dato in passato, per chi acquistava alcune certe cose, e dovevo raccontato i sette appuntamenti con questa ragazza qui, però è soltanto l'unica ragazza con cui è stato così difficile arrivarci al sesso, ma dall'altro lato appunto come ho detto, questa cosa poi mi fa stare molto più tranquillo, perché se per me che sono iper mega esperto, senza tirarsi, semplicemente così, quindi per me che sono esperto, se è stato così difficile, è impossibile per chiunque altro, non c'è speranza per nessun altro di riuscire a fare qualcosa con la mia ragazza, ha avuto, non dirò qui con quanti ragazzi ha fatto sesso, però con un numero piuttosto basso, e poi praticamente lei si era trasferita a Dubai praticamente tre anni prima che arrivassi io, quindi quando l'ho conosciuta nel 2021, e nei precedenti tre anni che è stata qui, prima che mi trasferissi io qui, non so se non so se è mai uscita con qualcuno, però non ha mai fatto sesso, ne ha avuto relazioni con nessuno qui, le relazioni che aveva avuto ce le aveva avute nel suo paese di origine, che non dirò qual è, perché poi ci sono i stalker online, non ho soltanto intenzione di divulgare informazioni riguardo alla mia ragazza, ci sono poi i stalker online, e quindi se per me è stata così difficile, cioè sarà impossibile per chiunque altro, ok? Come ho già detto nelle lezioni precedenti, se la tua ragazza è un minimo carina, se è bella, molto bella o strafiga, cioè te la approcceranno per forza, è una cosa inevitabile, mettiti in pace con questo, e se la cosa ti dà fastidio, in realtà ci sono dei problemi interiori, poi ci può stare... no, in realtà no, questo è quello che penso io, quindi non ti dovresti preoccupare, se hai costruito una relazione felice, se hai fatto tutto quanto, tutto quanto quello che ti sto dicendo in questo corso, e che ti dirò in questo corso, perché io non sono preoccupato, perché sono esperto, e quindi è stata per me difficilissima, e quindi per gli altri sarà impossibile, è stata con pochi ragazzi in arco della sua vita, quindi le possibilità che vada con qualcun altro sono praticamente zero, soprattutto per il fatto che costruisco una relazione felice, e anche per il fatto che per me è stata difficilissima, quindi per altri sarà impossibile. Quindi quando magari mi racconta lì, che l'ha scritto il tipo su Instagram, che non so, il recentemente l'ha tipo scritto uno, chiedendo il tipo di essere la sua sugar baby, quindi se conosce la dinamica sugar daddy, sugar baby, che praticamente su sugar daddy è uno che fa regali, barra da soldi a una ragazza, in cambio di presenza, in cambio di sesso, in cambio di regali, in situazioni di questo tipo, ovviamente io so che è una cosa che non farebbe mai, anzi in realtà come abbattuta, tipo gli avevo detto io, fammi vedere, magari possiamo accettare, magari stai un po' con lui, eccetera, senza farci niente, e lo sfruttiamo per farci fare regali, quindi questa è stata la mia prima risposta, ma poi io scherzavo, in realtà non so quanto scherzassi, però non è proprio partito la cosa del, che lei potrebbe mai fare una cosa di questo tipo, tantissime volte è capitato che l'approcciassero persone di giorno, una persona che l'approcciassero in piscina, non succede niente, è impossibile che qualcun altro riesca a fare qualcosa, perché gli uomini sono incapaci, perché per me è stata difficilissima, per gli altri sarà impossibile, perché ho costruito una relazione felice, e anche perché lei ha di base, ha fatto sesso con molti pochi uomini, nel corso della sua vita, quindi queste condizioni allezioni presenti, queste tre componenti mi fanno stare iper tranquillo, perché appunto come ho detto, se comunque io costruissi una relazione felice, però lei è stata con tanti uomini nell'arco della sua vita, e se comunque per me è stata molto difficile, comunque sarei tranquillo, ma comunque ci sarebbe sempre un po' quella cosa in testa, che dico, non so, magari potrebbe magari succedere un giorno, però con queste tre componenti insieme, cioè ti fanno dormire sonni tranquilli, e poi il quarto passo, quindi se non tenersi accorto, sono quattro i macro passi che ti sto dicendo qui, quindi fare la lista, rispecchiare le caratteristiche, fare azione per approcciare le ragazze, arrivarci al sesso, e la quarta cosa che adesso vediamo, è continuare a vedere la ragazza in questione, in situazioni di giorno, ora non per forza soltanto di giorno, va bene, vedete di sera, andate a cena insieme, però il concetto è, vedetevi per fare attività, che vadano al di fuori, del soltanto il sesso, o soltanto il drink, ok, perché quella è una torima amicizia, quindi, e come ho detto, lo stato della relazione è dettato dalle azioni, non da quello che vi dite, poi, sicuramente a un certo punto, non per forza, però molto probabilmente a un certo punto, subentra la conversazione del, cosa siamo, ok, ora, non devi essere mai tu che menzioni questa conversazione qui, quindi, perché è un'attitudine bisognosa, se devi sapere tu queste informazioni qui, sul fatto che lo stato della relazione è dettato dalle azioni, io so che a un certo punto, dopo un po' siamo in una relazione, non mi serve, non mi serve che abbiamo la conferma, perché tanto non conta, anche se abbiamo la conferma, non conta, ok, ma tanto sono le azioni che dettano quella che è la relazione, quindi io lo so che siamo in una relazione, a un certo punto, però, alle ragazze, gli serve, a volte sapere, in maniera esplicita che siete in una relazione, quindi, semplicemente, se effettivamente tu sei certo di voler essere in una relazione con quella ragazza, c'hai già fatto sesso, è un po' che vi state già vedendo, per un po' non significa sei mesi, va bene, anche dopo un mese, due mesi, siete tranquillamente in una relazione, quindi uno o due mesi dopo che avete fatto sesso, se vi continuate a vedere, quindi, se a un certo punto, lei tirerà fuori quella conversazione, se la tira fuori, però, quando tira fuori quella conversazione, semplicemente tu confermi, siamo in una relazione, siamo fidanzati, ok, quindi, non è nulla di particolare, non devi fare, diciamo, discorsi particolari, semplicemente le confermi, questa cosa qui, se effettivamente la tua intenzione, essere in una relazione con lei, approfondiamo magari anche un po' il discorso, se dovesse farti questa domanda, diciamo, prima che tu sei certo di volerla come fidanzata, e lì appunto puoi dare la risposta, che deve provenire dalla mentalità sana, riguardo alle relazioni, ovvero il fatto che, lo capisci con il tempo, se una ragazza ti può interessare per una relazione, o per un qualcosa di più casuale, ok, una risposta che puoi dare, appunto, se per esempio, ancora non sei certo, però comunque ti stai trovando bene, c'è già fatto sesso, e vi state già vedendo da un po', però ancora non sei iper certo di volerla come fidanzata, sei già ancora in fase di valutazione, e puoi dire appunto che, diciamo, che vedi effettivamente un buon potenziale per essere fidanzati, e però ancora è troppo presto, di solito lo capisco con il tempo, se una ragazza è la candidata giusta per una relazione di coppia di lungo termine, però per il momento ci troviamo molto bene, mi trovo molto bene con te, mi piace stare con te, vedo un buon potenziale, però per il momento è ancora troppo presto per definirlo, quindi, io non è che avevo la risposta pronta in questo caso, però semplicemente quella risposta a questa domanda qua deve provenire appunto da una mentalità sana riguardo alle relazioni, ovvero il fatto che con una ragazza, se effettivamente vedo che c'è del potenziale, comunque mi serve un attimo di tempo per capire se posso, se la voglio come fidanzata, ok? Quindi automaticamente da questa mentalità poi ne deriva la risposta che dai alla ragazza, quindi questo se te lo chiede quando ancora tu non sei certo di voler una relazione, se no, se ne sei già certo, semplicemente confermare che siete fidanzati. Ora invece parliamo di come tenere una ragazza dopo il sesso, quindi sempre collegato a questo argomento, quindi a un certo punto dopo ci fai sesso devi anche tenere la ragazza, però ci sono alcuni errori, alcune cose tipiche, gli uomini sbagliano nel dopo il sesso, quindi innanzitutto essere troppo casa nuova è controproducente, in certi casi, ve lo vedremo poi nella lezione successiva, il fatto di impostare le aspettative giuste fin dall'inizio, quindi se vuoi tenerti aperta la porta della relazione con una ragazza e magari se hai capito fin da subito e magari ci hai fatto sesso e già hai visto comunque che non è una ragazza che ti può interessare per una relazione, semplicemente magari te la vuoi tenere come troppo amica o magari non vuoi più vederla dopo averci fatto sesso lì, se vuoi tenere come troppo amica non c'è problema, anche se sei un po' casa nuova, anche se sei troppo player non c'è problema, se però vuoi tenerti aperta la porta della relazione, essere troppo player, casa nuova, eccetera, non è esattamente la cosa migliore. Poi comunque la puoi bilanciare creando fiducia, con una cosa che vedremo adesso qua, adesso, ma comunque che ho già spiegato anche in altri corsi, soprattutto in dall'approccio alla camera di letto, e però occhio, cioè per esempio, mi ricordo una ragazza in passato con cui ho fatto sesso al secondo appuntamento, ma semplicemente perché al primo appuntamento aveva il ciclo, e questa ragazza qua, fra l'altro per chi ha il videocorso traduttore da un uomo, c'è la registrazione di questa conversazione, quando l'ho letto con questa ragazza qui, che praticamente a un certo punto mi aveva chiesto, siccome lei era tipo il secondo ragazzo con cui faceva sesso nella sua vita, e aveva capito, comunque avevo un po' di esperienza, e a un certo punto mi aveva chiesto quali erano le differenze a letto fra le ragazze asiatiche e le ragazze di diversi paesi, e io ho iniziato a dire alle ragazze tedesche sono così, le ragazze italiane sono così, le ragazze russe sono così, le ragazze cinesi sono così, le ragazze giapponesi sono così, capisci che non è esattamente una conversazione che ti lascia la porta aperta per una relazione, magari anche sì, perché comunque puoi calibrare quella parte di fiducia, però una conversazione di questo tipo, una conversazione che imposta, un'aspettativa ad altro amicizia, un'aspettativa non seria, ok, quindi occhio nel farti percepire troppo Casanova, se effettivamente vuoi lasciarti la porta aperta per una relazione, poi una delle cose che appunto va a bilanciare, se magari sei troppo Casanova, è comunque una cosa che va a creare in generale fiducia, farle sapere che cosa ti piace di lei, se hai già dell'approccio alla crema deletto, non dovrebbe essere una novità questa cosa, dovresti già saperla, ok, è esattamente uno dei principi per rendere solido un numero di telefono, è lo stesso principio poi anche dopo che la fa sentire speciale, e quindi di conseguenza va a creare fiducia, quindi fai in modo che lei sappia che cosa è che ti piace di lei, e ricordati che non devono essere soltanto caratteristiche fisiche, anzi, quando le spieghi, quando si salta fuori durante una conversazione, o comunque capita sempre magari di dire a un certo punto, magari qualcosa che ti piace di lei, e quindi non devono essere caratteristiche soltanto fisiche, però fai in modo che lei sappia che cosa è che ti piace di lei, quindi questa cosa va a creare fiducia, quindi è una cosa che ti aiuta poi a tenere la ragazza dopo il sesso, e che soprattutto poi ti lascia la porta aperta per una relazione di coppia, quindi poi l'altra cosa importante per tenersi una ragazza dopo il sesso è parla a letto, ok, questo è un errore tipico che fanno gli uomini a letto, fanno sesso e poi sono lì in camera letto, non parlano, stanno zitti, non sanno ne cosa dire, ma in realtà non è che non sanno che cosa dire, perché se arrivi al punto di aver fatto una ragazza, qualcosa riguardo alle abilità di conversazione lo saprai, ok, quindi, se hai problemi su che cosa ne dico dopo a letto, non c'è che cosa dirle a letto, quindi bisogna imparare i principi di conversazione, ma poi anche se non sai i principi di conversazione, che comunque è impossibile che arrivi al sesso senza sapere un minimo di principi di conversazione, e non è che c'è l'argomento di che cosa parlare a letto, parlate, parlate più del meno, parlate del senso della vita, sto scherzando, parlate di qualsiasi cosa, ok, non c'è l'argomento di che cosa parlare a letto, ok, semplicemente parlate, quindi è un errore tipico che commettono gli uomini a letto, ok, dopo il sesso, fanno zitti, non parlano di niente, o magari, magari semplicemente finisce lì la cosa, che magari addirittura se ne vanno via, oppure la riaccompagnano fuori, cioè, è stato un minimo a parlare, quindi, soprattutto se fate sesso, e tu te ne vai via subito, magari lei se ne va via subito, delle volte magari è necessario, perché magari ci sono, magari il giorno dopo, magari ti ti sveglia presto, magari lei si deve svegliare presto, non lo so, delle volte è necessario, che dopo il sesso ce ne si va via subito, però sappi che non è una cosa che aiuta nell'impostare, diciamo, l'aspettativa giusta, per entrare in relazioni coppia, o comunque ne parleremo poi anche nella lezione successiva. Poi, altra cosa importante dopo il sesso, è non essere appiccicoso, o bisognoso, che sarà tipico di chi non ha esperienza, ok? Le ragazze in media riescono a essere, perché di solito hanno più esperienza, in termini di interazioni con gli uomini, rispetto a quanto gli uomini hanno esperienza, interazioni con donne, però appunto, se sei in questo corso, non devi ambire a essere un uomo medio, che ha poca o zero esperienza con le donne, ok? Quindi devi avere tu più esperienza con le donne, rispetto a quanto esperienza abbia lei con gli uomini, in modo che sei naturalmente non appiccicoso e bisognoso dopo il sesso. Tantissimi uomini che hanno zero esperienza, sono poi eccessivamente smielati, sdolcinati subito dopo il sesso, appiccicosi, ipercoccolosi, ci può stare in certi casi, di base va bene, però occhio, ok? Però, diciamo, viene in maniera naturale il momento in cui hai esperienza con le ragazze, oppure le fanno subito intendere, fanno già subito discorsi da relazione, le chiedono subito a quando è che ci rivediamo, vedete queste cose qui, le fanno intendere che non hai zero esperienza, quindi risulti soltanto come appiccicoso, iperbisognoso, e la ragazza se ha un minimo di esperienza potrebbe prendere distanza perché vede che non hai esperienza, che ti sei attaccato subito per il fatto che avete fatto sesso, ok? Quindi anche per quel punto bisogna fare esperienza con le ragazze prima di entrare in una relazione. Poi cosa importantissima è scrivile il giorno dopo avete fatto sesso, che è importantissima anche una cosa, tantissime volte studenti che hanno fatto questo errore qui di far sesso con le ragazze e poi non scriverle, scriverle magari tre giorni dopo. La ragazza si sente usata se non le scrivi il giorno dopo. Ora potrebbe anche scriverti lei, però il concetto è sentitevi il giorno dopo, ok? Io quello che faccio quando faccio sesso con la ragazza ma anche in generale se ci ho fatto semplicemente un appuntento o anche senza averci fatto sesso è che il giorno dopo le lascio tutto quanto il giorno per scrivermi, quindi abbiamo fatto sesso, ci siamo separati la sera o la notte tardi e non le scrivo al mattino, non le scrivo al pomeriggio, se non mi ha scritto lei pomeriggio le scrivo io di sera, ok? quindi non cadere nella mentalità dei dioti, ah deve essere lei che mi scrive lì, perché deve fare lei la sua parte, lei lascia stare la mentalità da perdenti, quindi va benissimo che le scrivi il giorno dopo, però comunque lasciare lo spazio per essere lei a riscriverti. Deve volte ti riscriverà già lei la sera stessa e deve volte magari le scrivi tu la sera stessa per sapere se è arrivata a casa, sana e salva, eccetera, però importantissimo, sentitevi il giorno dopo, o scrivi il giorno dopo, se no lei si sente usata, ok? E poi magari tu le scrivi due giorni dopo e lei ti dice, ah ma perché sei sparito? Ho roba di questo tipo, oppure da volte magari ti fanno le battute, a me no personalmente, ma perché sapevo questa cosa qua, fin dall'inizio, però è capitato a certe volte, studenti che mi presentavano sulle situazioni, magari dove anche la ragazza faceva la simpatica, tra virgolette, dove tipo diceva, ma non sapevo che fossi un mago, magari lo studente iscriva tipo tre giorni dopo, la ragazza diceva, ah non sapevo che fossi un mago, e lo studente diceva, perché? In che senso? Non ho capito. È perché sei sparito, quindi alcune volte fanno le simpatiche, la simpatica non tanto, perché ti stava dimostrando che hai fatto un errore, che è diciamo magari anche incazzata, quindi se non le scrivi il giorno dopo, se non vi siete del giorno dopo, lei si sente usata, si sente usata, capisci? Non è esattamente il giusto punto di partenza per una relazione, quindi, e poi vabbè, l'altra cosa, ne parleremo poi più avanti, in questo corso ci sarà una lezione dedicata, ovvero l'essere bravo a letto, il metodo sovrano per tenersi una ragazza dopo il sesso è soddisfarla a letto, farle raggiungere l'orgasmo, e magari anche più orgasmi, durante una sessione in cui fate sesso, ma comunque ci sarà una lezione dedicata più avanti, e poi in conclusione in questa lezione, un ultimo suggerimento in termini di ricerca della propria donna ideale, è non cercare la ragazza perfetta, perché non esiste, ok? L'avevo già accennato, forse, nella lezione precedente, quindi cercare il potenziale, ok? Tu troverai, effettivamente, si fai tutte quante cose giuste, troverai tante ragazze che sono estremamente compatibili con te, troverai tante ragazze che hanno il potenziale, ok? Dei cercare il potenziale, non la ragazza già perfetta, esattamente, come la vuoi te, ok? Dei cercare, chiaramente, che abbia, presente, più requisiti, possibile, che sia più possibile, come la vuoi te, ma poi diventerà la ragazza perfetta nel mentre che vi plasmate insieme durante la relazione, ok? Non sarà mai perfetta, esattamente perfetta, 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 come la vuoi te, fin dall'inizio, vi migliorerete entrambi, crescerete insieme entrambi durante la relazione, vi plasmerete entrambi durante la relazione, ok? Quindi cercare il potenziale, quindi anche per quello deve essere, deve essere aperta, deve avere la propensione al miglioramento personale, ovunque che sia aperta, a farsi influenzare da te, ok? E per esempio, una cosa, non so, non so, io ti ripeto, io in questo corso, vabbè, ti dirò tante cose, che magari, alcune cose io non le vorrei dire, perché sono anche cazzi miei, comunque, io sicuramente, nella relazione con la ragazza con cui sono in questo momento, sicuramente mi sono anche un po' addolcito durante la relazione, quindi, e poi, magari lo vedremo in altre lezioni, e lei sicuramente si è sbloccata molto di più sessualmente, ok? Quindi ci siamo, giusto un esempio, per dirti come ci siamo plasmati a vicenda durante la relazione su due caratteristiche specifiche, ok? Soltanto un esempio, ok? Vi potete plasmare anche su altre caratteristiche, quindi, sicuramente l'ho fatto conoscere, diciamo, più in più in specifico, magari, il mondo del miglioramento personale, su tutte quante le varie sfaccettature, anche il mondo del miglioramento sentimentale, ok? Mi sono trovato, diverse volte, proprio a spiegarle questi concetti qua, di una relazione di coppia di successo, quindi, proprio mettermi lì con gli appunti, e spiegarle queste cose. Vorresti scoprire il sistema per trovare quella giusta, che ti capisca e ti supporti, trasformarla nella tua fidanzata, e farle desiderare di rimanere insieme a te per sempre, felici e contenti? Se sì, accedi a Per Sempre Insieme, con il 50% di sconto, acquistabile fino all'8 di luglio, dopodiché chiuderà insieme a tutti i videocorsi di Approcciala.it. Clicca sul link in descrizione per ottenere l'accesso immediato. Grazie a tutti.